Dopo aver raggiunto l'accordo su Brexit con l'Unione Europea, la premier britannica Theresa May ha convocato il suo gabinetto. Arriva adesso il compito più difficile. Inizia infatti un dibattito nazionale sull'accordo e il voto del Parlamento è previsto prima di Natale. May comunque ha ribadito che questo è il solo accordo possibile. Se le persone pensano che ci sia un altro negoziato da fare, non è così. Questo è l'accordo ed è il risultato di un lungo e difficile periodo di negoziati. Questo è l'unico accordo sul tavolo ed è il miglior accordo possibile. È l'unico accordo possibile. per convincere i propri parlamentari. L'accordo prevede un periodo di transizione fino alla Brexit, fissata per il 29 marzo 2019, periodo in cui di fatto non cambia nulla e che potrebbe essere prorogato fino al 2022. Ma la palla passa a Westminster, dove sono contrari all'accordo, oltre ai laburisti, anche molti conservatori che considerano troppo morbida l'intesa raggiunta.